È stata prorogata al 9 gennaio la mostra sugli artisti del movimento Surfanta, Seduzioni del Fantastico, Torino tra Surrealismo e Metafisica, allestita nella Galleria Belvedere di Palazzo Lascaris. Nell'esposizione curata dal Consiglio regionale e dall'Associazione Culturale e Magica Torino, una selezione di 14 opere di pittori piemontesi esponenti dell'arte fantastica. La mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 con ingresso gratuito.